Mia gestisce un negozio di fiori ottimamente avviato. Poiché i clienti aumentano verso sera, decide di allungare gli orari di apertura. Per farlo sapere al pubblico, vuole modificare l'informazione anche online. Ma da dove cominciare? I suoi orari sono riportati su dozzine di piattaforme. Modificarli tutti singolarmente è per lei un compito troppo gravoso. Con My Presence di Local Search, Mia non deve preoccuparsi. Può infatti gestire i propri orari a livello centrale dall'account personale. Orari, indirizzo, numero telefonico e altre informazioni importanti vengono aggiornate automaticamente su oltre 25 piattaforme online e sistemi di navigazione, con poche e semplici operazioni. Anche voi desiderate gestire i dati dell'azienda centralmente in modo semplice e conveniente? I consulenti Local Search sono a vostra disposizione. A presto! A presto! A presto!